E adesso una nuova rubrica curata da Silvia Pagni, stiamo parlando di Biglietto da Visita. Bentornati cari telespettatori nel nostro salotto di Biglietto da Visita. Oggi l'ospite è un infantro riche del pianoforte, un pianista gizzista con un palmares di 18 album. Vado subito a fare la prima domanda di Rito. Gentile ospite, mi sente? Sì, sento benissimo. Benissimo. Ci sveli il suo biglietto da visita. Allora, sono nato a Sante Usagno del Sangro in provincia di Chieti il 9 giugno 1974. Sono un pianista. Nome e cognome? Michele Di Toro. Benvenuto maestro nella nostra rubrica. Veramente sono molto felice perché io sono una sua fan da sempre. E quindi conoscerla per me è stato veramente un grande onore. Grazie mille. Mi fa molto piacere poi avere una fan come lei, insomma. Eh sì, vabbè, lasciamo per te. Vado subito alla primissima domanda. Quando è nata e com'è nata la sua grande passione per la musica? Beh, la passione della musica è nata, io diciamo sono stato, mi ritengo fortunato perché il pianoforte l'avevo già a casa. Perché mio padre, pur non avendo studiato musica, è stato sempre appassionato di musica e suona la fisarmonica orecchia, insomma. Quindi poi anche da discendenze di nonno, insomma, che suonava il sax. Quindi sono stato sempre un po' in mezzo alla musica da quando proprio ero piccolissimo, due, tre anni, rimbraccio a lui. E da lì è nata tutta la passione, quest'amore. E poi anche la fortuna di avere un pianoforte verticale dentro casa, quindi con il quale mi esercitavo tutti i giorni. E quindi è stato facile poi a quel punto il connubio tra passione e pratica. Perché il pianoforte l'avevo a disposizione dentro casa, quindi non ho avuto nessun tipo di difficoltà. Ed allora è stato un amore a prima vista che ancora oggi dura e durerà in eterno. Perché la musica la sento dentro ed è più di un lavoro per me. E certo, questo lo sentiamo perché ha delle mani veramente d'oro. Il suo percorso per arrivare su questi palchi così importanti internazionali nel mondo del jazz, come è successo? Perché sai, lo studio sì, però ci vuole anche molta passione e molta fortuna. Esatto. Sì, è tutto un intreccio tra tutti gli ingredienti che hai appena descritto. Insomma, quindi è così. Ci vuole molto studio, molta passione, molte rinunce. Quindi sacrifici e diciamo che noi artisti, noi studenti di musica all'epoca abbiamo dovuto rinunciare a tante cose che erano anche insite nella nostra giovinezza. E ci ha pesato sicuramente questo processo di crescita che non è stato simile ai nostri poetani. Però io sinceramente non ho mai sofferto la mancanza di fare certe cose anziché studiare. Quindi preferivo molto studiare, andare a letto presto la sera e quindi così via dicendo, insomma, così facendo sono andato avanti. Quindi ho fatto i miei studi prima al Conservatorio di Pescara, chiaramente, e poi mi sono perfezionato a Parigi, all'Ecole Normale di Music Alfred Corteau e poi da lì mi sono trasferito per circa dieci anni a Milano dove ho proseguito ai miei studi più che altro sul perfezionamento del jazz che poi è diventata la mia ragione di vita, insomma, con i civici corsi jazz di Enrico Intra e Franco Cerri. Bene. Quante ore studia oggi il maestro Michele Di Toro? Beh, io ho sempre studiato tanto, insomma, anche se... Ma le mie ore di studio erano rivolte più alla passione di capire cosa stavo studiando, insomma. Non è che era... perché qualcuno mi diceva devi studiare quattro ore o devi studiare otto ore. Era proprio la voglia di correre al pianoforte in ogni momento che potevo. Perché poi il mio studio è stato sempre un po' frammentario durante la giornata, nel senso che non facevo mai cinque ore di seguito, facevo magari due ore, poi meditavo, cercavo di elaborare delle cose che avevo studiato, che avevo iniziato a leggere, perché poi si studia pure quando non si è allo strumento. Quindi il cervello va avanti, elabora e quindi poi ritornavo e continuavo. Quindi andavo due, tre volte al giorno, anche di notte. A volte infatti ricevevo pure qualche telefonata notturna di qualche vicino di casa che all'epoca si sentiva disturbato dalle mie scorribbande musicali alle due, alle tre di mattina quando rientravo. E' stato sempre così, un amore continuo e poi niente, mi ho approfondito sempre di più ciò che capivo. Infatti oggi, mi lasci dire questa cosa, insomma, oggi dico sempre ai ragazzi, agli studenti, la musica la capita prima con gli occhi e poi con lo strumento. Insomma, uno deve capire prima che cosa vuole fare, poi vuole realizzare con lo strumento che suona. Quindi è uno studio anche analitico la partitura, di capire com'è fatta. E' come un libro, un percorso che va studiato anche a tavolino, secondo me. Eh sì. Sicuramente i nostri telespettatori vorranno sicuramente ascoltare qualcosa. Io mando subito un piccolo contributo. E' come un libro, un percorso che va studiato anche a tavolino. Lei ha collaborato con i più grandi nomi del panorama musicale, come Tim Carland, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e tantissimi altri. Cosa le hanno donato e cosa lei ha donato a loro musicalmente? Beh, io credo che ci sia stato uno scambio reciproco di energie, perché sono stati concerti molto affascinanti e molto belli, quelli che ricordo con questi grandi musicisti. e quindi poi ogni concerto ha la sua importanza, la sua connotazione ben precisa, perché ogni artista poi vero, come sono questi nomi che mi hai ricordato, insomma, portano nella musica la propria sincerità di quello che faccio anch'io, insomma. Cioè, alla fine cerco sempre di suonare in modo sincero, autentico e quindi ci siamo scambiati delle belle energie, alla pari proprio. Bene. Adesso le farò una domanda che sono, lo faccio sempre a tutti i miei ospiti, di dare un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere questo mondo dello spettacolo, il mondo del strumentale o del cantante, comunque il mondo artistico. Beh, io proprio riallacciandomi al finale del discorso di prima è di essere sempre sinceri, autentici e non accedere alle regole, a volte anche senza senso, di un mercato che vuole fare business a tutti i costi, insomma, quindi voglio dire l'arte è una cosa e poi quella è il successo immediato che finisce anche subito, però poi se non è supportato da qualcosa di importante, da un corredo artistico appunto importante, poi finisce tutto subito e vediamo tanti casi oggi, sia nel mondo del canto, sia nel mondo strumentale, anche questi talk show, insomma, che a volte ingannano quello che poi è veramente un percorso fatto di studi, di mesi, di anni dove ci si confronta anche con musicisti anche più bravi e con più esperienza di noi stessi, insomma, no? È tutto un continuo scambio e quindi se non avviene tutto ciò io penso che poi le cose prendono una direzione anche a volte sbagliata, quindi il mio consiglio è quello di studiare sempre, di confrontarsi e di uscire anche dai ranghi del proprio territorio, proprio per vedere che cosa esiste fuori dalla propria regione e dai propri spazi, no? Bene, io la vedo comodissima su una bellissima poltrona, però so che davanti a lei c'è un pianoforte, ci può dedicare un minuto della sua magnifica arte? Certo, ma che genere preferite? preferite perché io sono un pianista che è un po' eclettico così tra il classico, il jazz, il popolo, il tango. Qualsiasi, qualsiasi. Qualsiasi, mi lascia scegliere. Bene, perfetto. Vado. Vai. Vado. Vado. Grazie a tutti. 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 momento ne sono rimasto innamorato da quel modo di suonare quindi mi sono molto ispirato inizialmente a questo modo molto libero ma anche molto creativo nell'affrontare le partiture pianistiche proprio l'improvvisazione stessa e quindi già sicuramente già potrei citare tanti altri nomi ma in primis lui lui adesso la metterò un pochettino in crisi perché voglio che lei mi dedichi un pensiero su di me io lo chiedo a tutti i miei ospiti ma io la posso dedicare solo a un anno un pensiero su di lei voglio le parole perché io già la conosco musicalmente le sue parole se l'ho messa in crisi sì perché beh voglio dire lei è una persona splendida che ha dato alla musica tante un po' come me tant'è un contributo molto importante sta dando quindi voglio dire sorga molti progetti importanti futuri e quindi se penso un pochino che siamo simili sul modo di rapportarci con la musica io le dedico veramente una di avere sempre una grande energia verso la musica di non spegnere mai questo aspetto creativo che poi è il nostro punto di forza ed è anche il suo sicuramente quindi questo io le auguro di avere sempre da proporre un qualcosa di nuovo di non già visto e di guardare al futuro sempre con una grande intelligenza musicale artistica grazie grazie veramente ti ringrazio con la ringrazio con il cuore e anche per oggi abbiamo terminato grazie per la sua grande presenza spero che sia stato bene io benissimo grazie mi dispiace sempre salutarci alla fine però comunque siamo stati bellissimi grazie grazie io le mando un bacio e saluto tutti i miei cari rispettatori e vi aspetto la prossima settimana con biglietto da vista ciao grazie a tutti